A un'idea che alle otto dobbiamo stare sotto casa del procuratore La muscolta c'è a dire a Fresca Raffaele che la benzina si fa alla sera Mi faccio il pieno Se ne posso dare solo 20 litri E vada dello spiegarlo Ma veramente stavo pensando giusto e bercene un goccetto I giubbotti dove sono? Uno ce l'ho addosso io, l'altro che l'ho? Ma questo mandolese che voleva fare il caposcortatore? A Roma lo faceva E' stato 3 anni con un onorevole A mangiare di pane Alta la testa, devi guardare il balcone, non il marciapiede E' aperto Buongiorno, signor Sparulano 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 Si deve muovere di casa prima del nostro arrivo Sì, quando arriviamo l'avvertiamo e saliamo noi al treno Ma voi eravate in ritardo Poi non ho avuto mai una scorta Andate la prima volta E' stato fatto, non è vero Ma voi eravate in ritardo A Roma, non hai avuto mai una scorta Da sentire le queste scorta di empattare inizia La sirena è proprio una cessione. Sì, signor procuratore, così vediamo il traffico. Ma non adesso il cancello?